buongiorno a tutti amici youtube oggi siamo qui con uber 7 kg più 5 in asciugatura è la lavatrice di mia nonna che ha andato così otto anni faccio vedere il cestello comunissimo cestello condizione qua non si leva più perché ho 9 anni e c'è la mia nonna quindi i veri 7 kg quello grande ci sono i cuori poi gli agitatori di un po vecchiotta ancora la va bene infatti basta fare così che lei si muove qui c'è la maniglietta ha il doppio vetro c'è il cassettino che magari si è manchiato infatti colori non si leva più questi sono i programmi quindi Grazie. Magari vi porterò stasera il lavaggio degli scuri, ma non vi assicuro niente. Ciao.